Ci sono tante sfide educative, ci sono tante sfide che dobbiamo affrontare. Speriamo di avere il cuore e l'intelligenza di Don Bosco per portare avanti questo impegno. E Don Giuseppe Ruta, il nuovo superiore dell'Ispettoria Italia-Sicilia dei Salesiani per il periodo 2014-2020. Già consigliere ispettoriale dal 2003 al 2009 e dal 2011 ad oggi, è stato nominato nell'ambito dei lavori della sessione plenaria estiva e succede a Don Giovanni Mazzali. Oggi a Catania, a distanza di qualche settimana dagli eventi che hanno portato anche in Sicilia le reliquie di Don Bosco, la cerimonia di cambio al vertice. Un impegno che non può prescindere dalla crisi economica che ha colpito le famiglie siciliane. Certamente la crisi che attraversa tutti i settori, attraversa certamente le famiglie, coglie anche la nostra istituzione, per cui si tratta di affrontare anche da parte nostra questo problema di carattere economico. Però non è questo il problema più grande, secondo me c'è un problema legato alla coesione, legato alla solidarietà, legato a uscire dal nostro guscio, dai nostri piccoli interessi, per guardare un po' oltre. Don Ruta, nato il 30 gennaio del 1959 a Modica, è entrato nel noviziato salesiano di Lanuvio nel 1974. Ordinato sacerdote nel 1986, ha prestato il suo servizio prima nella casa salesiana di Barcellona Pozzo di Gotto, poi a Messina e Catania, ricoprendo in queste ultime due comunità anche l'incarico di direttore. laureato sin teologia catechetica presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma, ha poi insegnato dal 1990 fino all'attuale anno accademico presso l'Istituto Teologico Santo Maso di Messina. Qui è stato anche preside e direttore della comunità. La sua nomina giunge a distanza di qualche settimana dall'arrivo in Sicilia delle reliquie di Don Bosco, e dunque qual è il messaggio che vuole rivolgere? Il messaggio che voglio dare è che Don Bosco è vivo, è presente in mezzo a noi, ancora continua a sognare per i giovani di questa terra cose nuove, la novità di una vita restituita a se stessa, la dignità, i diritti fondamentali che purtroppo tante volte non vengono garantiti ai giovani e alle famiglie.